Eccoli ai 100 metri, ai 75 Vincenzo Albanese l'abbiamo detto, anzi l'avevi detto prima della partenza una squadra compatta, la squadra avrebbe lavorato per te Sì, oggi ho fatto un lavoro strepitoso agli ultimi chilometri, sapevo che in volata avevo una buona gamba e niente, sono felice, non so che dire ringrazio Pla e Petroli perché sono fantastici per me come una seconda famiglia Hai corso sempre coperto? Sì, i primi 80-100 chilometri ho corso coperto ma poi ho attaccato e niente, sono contentissimo